Dopo dobbiamo lasciare lo spazzo alle risposte, grazie. No, io sarò il più veloce di tutti. Allora, hai parlato che in pratica il patto di Stabilità non ci sarà più, cioè non c'è più, comunque c'è la possibilità da parte dei comuni più virtuosi poter spendere rispetto prima. Io ho una domanda, la cosa faccio, la consigliere comunale da tesista nel project finance perché sono interessati in maniera particolare. E in tutto questo, di solitari in ultimi anni il partenariato pubblico-privato si è avuto difficoltà rispetto alla Francia, il project finance quasi non esiste qua, il rapporto ovviamente. Dunque, innanzitutto se sono previsti incentivi nella regia di stabilità per il partenariato in particolare ma soprattutto nel project se è previsto qualcosa per incentivare l'utilizzo di un strumento anche e soprattutto a livello di ente comunale. E l'ultima cosa, visto che il patto di stabilità non c'è più, a livello di incontabilità interna, come si posiziona il project? Per capire un attimo, è preoccupato. Ciao! Grazie.